... tutta la maturanza facciata in una realizzazione dinamica e in vista, questo è il ricevimento strumentale e sostanzialmente funcionalistico assunto dalle opposizioni, quello di chiamare ai fatti, chiedendo agli organi di informazione, come primo conto, quello di vendere notti i fatti, il fatto è contegno, perché prima è stato illustrato, non so se tutti voi dicevano, allora, l'argomento per il quale oggi qui non c'è nessuno delle ignoranze è che non sarebbe stata fatta in modo corretto la notifica al consigliere del Consiglio Comunale che oggi era negli allegati, i fatti sono i sedenti, il consigliere Quattrini ha ricevuto una doppia notifica, una notifica per email della convocazione del Consiglio Comunale e di tutti gli allegati che fanno parte della delibera, dell'unità che oggi è in condizione, in discussione, la ricevuta in tempo utile e la ricevuta integralmente per email. Questo trovato è il motivo per cui anche sul piano formale gli uffici hanno confermato la malattia della convocazione perché c'è da sempre dall'inizio della consigliatura l'autorizzazione scritta nel consigliere Quattrini con gli allegati consiglieri di ricevere le atti e le notifiche a mezzo mail e questo è avvenuto incontestabilmente, non lo contesta neanche il fatto, non lo contesta neanche il consigliere Quattrini. Quattrini, oltre, in aggiunta in più alla notifica per email ha anche ricevuto la notifica in cartace dei medesimi anni l'ha ricevuta in tempo utile e l'ha ricevuta in questo modo l'ha messo comunale e gli ha telefonato per sapere dove era perché gli avrebbero fatto a sue mani la notifica. Il consigliere Quattrini era per gli attivi di salute e non a casa lui personalmente ha detto per telefono alla messa comunale portatelo pure a casa mia perché c'è qualcuno in grado di riceverlo cosa l'ommesso comunale ha fatto trovando la casa del consigliere Quattrini e avendo avuto questa indicazione dal consigliere Quattrini pregherei di questa ricostruzione infatti di riportarla testualmente perché poi il giudizio rimane i cittadini e i volontari avendo trovato a casa il figlio dei Quattrini su indicazione dello stesso Quattrini ha lasciato tutti gli atti e l'ha notificato alla figlia non avendo la scortesia di chiedere alla figlia la carta di identità dalla quale verificare si aveva compiuto i quattordici anni perché le notizie che possono essere ricevute anche da minori che abbiano compiuto i quattordici anni poi si è scoperto dopo che aveva tredici anni e un po' ma mancava qualche mese al continuamento dei quattordici anni fatto sta che dal punto di vista formale la prima notifica per me è già sufficiente ma la mala fede è evidenziata dal fatto che anche la notifica cartacea l'unica contestata da Quattrini anche la notifica cartacea è assodata che è avvenuta e che il consigliere Quattrini ne ha avuto notizia lo stesso giorno perché il messo comunale l'ha consegnata a casa sua lo stesso giorno in cui lui perderebbe gli ha detto consegnate la carta mia adesso io chiedo al normale buonsenso di ognuno di voi e di ogni cittadino a quattro qualcuno può dubitare che il consigliere Quattrini sapesse da aver ricevuto a casa la notifica anche cartacea degli anni che stiamo capando un interrogativo a ciò si aggiunga che la notifica è stata fatta ovviamente a tutti gli altri consiglieri comunali quindi a tutti quelli del suo gruppo si aggiunga che a sinistra la notifica ci sono state le mie commissioni consigliari in cui hanno partecipato lo stesso Quattrini e altri componenti del suo gruppo si può dunque sostenere che il consigliere Quattrini non ha avuto modo di conoscere gli altri? credo di no su questo fatto su questo fatto e motivandolo solo con questo fatto che vi ho appena descritto consigliere Quattrini gruppo 5 Stelle ma devo dire anche intanto ragioniamo i consiglieri della tua ruota quelli di 6 in livello del 60-100 eccetera anche disertato l'aula del consiglio comunale sono in piazza a fare qualche scindicciata questo fatto giudizio è un po'